Dopo le 48 ore di riposo concesse da Mr. Montella a tutto il gruppo e con i nazionali impegnati con i propri colori, la Fiorentina è tornata a lavoro al centro sportivo con un doppio allenamento tra mattina e pomeriggio. Nell'aria ancora un pizzico di rammarico per la mancata vittoria contro la Lazio nella gara disputata al Franchi domenica sera. Rammarico che però, una volta appoggiati gli scarpini da gioco sul manto erboso del centro sportivo, i ragazzi hanno tramutato come sempre in pochi istanti in voglia di rifarsi e conseguentemente nella preparazione all'ostico impegno in programma domenica all'ora di pranzo a Torino contro la Juventus di Antonio Conte. Subito intenso lavoro quindi per la Fiorentina, con la squadra che ha iniziato la giornata suddividendosi a gruppi in palestra per poi spaziare sul campo dedicandosi nel pomeriggio alla parte atletica e tattica assieme allo staff Viola. Comune in palestra. I want you by my side So that I'll never feel alone again They've always been so kind But now they've brought you away from me I hope they didn't get your mind Your heart is too strong anyway We need to fetch back the time They have stolen from us I want you, we can bring it on the floor Never danced like this before We don't talk about it Dancing on, do the boogie all night long Stoned in paradise Shouldn't talk about it I want you, we can bring it on the floor Never danced like this before We don't talk about it Dancing on, do the boogie all night long Stoned in paradise Shouldn't talk about it Shouldn't talk about it